la qualità delle videocamere digitali ora sto usando una videocamera sony pd 150 che offre una resa di immagine inferiore rispetto al modello hd l'adoro questa definizione e adoro le videocamere compatte è una qualità che ricorda i film degli anni 30 agli inizi infatti l'emulsione della pellicola era piuttosto mediocre così le immagini sullo schermo erano meno dettagliate il risultato che si ottiene con una sony pd è abbastanza simile zero alta definizione a volte quando in un fotogramma non riesci a capire che cosa vedi o c'è una zona d'ombra la mente può lasciarsi trasportare dalla fantasia se invece nel fotogramma è tutto estremamente nitido cosa resta da immaginare nulla purtroppo l'alta definizione offre immagini fin troppo nitide nella mia sala di missaggio ho visto uno spezzone di un film girato ad alta definizione un bel film di fantascienza peccato che in secondo piano riuscissi a intravedere alcune viti da legno in un quadro di comando che doveva essere in metallo sarà molto più difficile costruire dei set adeguati alle videocamere ad alta definizione il futuro del cinema il nostro modo di guardare i film sta cambiando l'ipod video e i filmati diffusi sul web stanno rivoluzionando tutto in futuro i film si guarderanno su schermi di formato minuscolo e non più sul grande schermo c'è anche una buona notizia perlomeno ognuno avrà un paio di cuffie credo che l'importanza della colonna sonora crescerà sempre di più comunque potresti anche collegare l'ipod a un qualche apparecchio per proiettare il film su un grande schermo nella comodità nel silenzio di casa tua con subwoofers e spettacolari casse stereo così da riuscire a emergerti nel mondo dei film il punto fondamentale è questo quando si apre il sipario e scendono le luci dobbiamo essere in condizione di entrare in quel mondo per molti versi sta diventando difficilissimo la gente parla troppo al cinema sullo schermo poi c'è una miseria minuscola immagine striminzita come fai a vivere l'esperienza del film sarà un cammino piuttosto impervio secondo me però esiste davvero la possibilità di girare film nitidissimi senza rigature sbavature schizzi d'acqua lacerazioni e di controllare la qualità dell'immagine in un'infinità di modi quando si fa attenzione a come un film viene proiettato la visione può essere un'esperienza meravigliosa che ti consente di entrare in un altro mondo stiamo ancora scogitando il modo di renderlo possibile c'è il digitale però c'è anche l'ipod video dobbiamo solo scendere dalle nuvole e metterci al passo coi tempi il buon senso buona parte del lavoro di un regista si svolge usando il buon senso se resti vigile attivo e pensi al modo in cui realizzare una cosa hai la soluzione sotto gli occhi alcuni consigli la verità sorregge la terra profumata e rende umida l'acqua brulicante di vita la verità fa bruciare il fuoco e soffiare i venti brillare il sole e crescere tutte le forme di vita una verità segreta e a fondamento di tutto trovala e risulterai vittorioso ramayana resta fedele ai tuoi principi esprimi la tua opinione forte e chiaro e non permettere a nessuno di manipolarla proprio a piacimento non scartare mai una buona idea ma non accettarne mai una cattiva e medita sperimentare il sé la pura coscienza è importantissimo mi è stato di grande aiuto lo sarebbe a qualsiasi regista secondo me inizia quindi a immergerti ravvivando la coscienza di beatitudine fai crescere la felicità e l'intuito sperimenta la gioia di fare risplenderai di serenità gli amici saranno contentissimi di starti accanto tutti vorranno imparare da te e il denaro arriverà dormire dormire è importantissimo devi far riposare il fisico per riuscire a lavorare e a meditare bene quando non dormo abbastanza medito in modo più spento può perfino capitare di schiacciare un sonnellino durante i primi minuti perché ti stai rilassando quando sei ben riposato invece hai un'esperienza più lucida più profonda può darsi che tu trascenda anche se mediti quando sei assonnato comunque è decisamente meglio affrontare la meditazione a mente lucida e sgombra quando ti immergi l'esperienza è potentissima e molto profonda durante la meditazione la mente si assesta a livello più profondo il fisico a un livello appena inferiore oggi grazie a numerose ricerche gli scienziati sanno che nello stato più profondo di meditazione ci si riposa molto più di quanto non succeda durante il sonno più profondo in ogni caso dormire è importante per prepararsi a raggiungere questo livello tieni duro è un bel dilemma vuoi fare arte ma devi anche vivere quindi sei costretto ad avere un lavoro e di conseguenza a volte sei troppo stanco per dedicarti all'arte se ami ciò che fai però non smetterai di farlo comunque io sono stato fortunatissimo sul nostro cammino incontriamo persone che ci aiutano nella mia vita ci sono state un sacco di persone che mi hanno dato una mano ad andare avanti l'aiuto arriva perché hai già fatto qualcosa quindi non smettere devo alla buona sorte molto di quanto mi è successo il mio consiglio però è questo cerca di trovare un lavoro che ti lasci un po di tempo libero dormi quanto basta e mangia con moderazione e lavora più che puoi è così appagante fare ciò che ami forse ti aprirà altre porte e finalmente troverai un modo per fare ciò che ami te lo auguro di cuore successi e insuccessi per certi versi più film hai diretto più risulta facile dirigerne altri acquisisci dimestichezza con il procedimento di catturare un'idea di tradurla in concreto capisci come usare gli strumenti e le luci come funziona l'intero procedimento ci sei già passato una volta allo stesso tempo risulta però più difficile perché quando fai uscire un altro film questo viene letto nel contesto di quelli precedenti verrà giudicato in base a essi se hai appena messo a segno un successo senti che questa volta potresti avere la peggio se invece hai perso punti per colpa di un film molto scadente come successo a me nel caso di dune può darsi che tu non abbia fatto paura senti di non poter cadere più in basso puoi provare l'euforia e la libertà di chi non ha nulla da perdere devi imparare a trovare un equilibrio tra i successi e gli insuccessi il successo può ucciderti tanto quanto un fallimento l'unica maniera per raggiungere l'equilibrio e sintonizzarsi sul livello del campo unificato ti è amico non puoi sbagliarti o ci sei o non ci sei dentro il campo quando l'hai ravvivato del tutto non puoi perdere qualunque cosa accada ancora a pesca rimanendo nella propria natura io mi manifesto mediante il mio stesso potere di creazione la fine di un progetto porta con sé una piacevole sensazione ma allo stesso tempo un certo vuoto hai concentrato tutta l'attenzione su quel lavoro e ora è finito è come pescare ieri hai preso un bellissimo pesce così oggi sei a pesca con la stessa esca e ti chiedi se ne catturerai un altro tanto per usare ancora l'analogia della pesca a volte anche se rimani al tuo posto armato di una pazienza proverbiale dei pesci non c'è neanche l'ombra sei nella zona sbagliata allora riavvolgi la lenza prendi remi e ti sposti in un altro luogo ossia ti alzi dalla sedia su cui stai sognando a occhi aperti e ti metti a fare altro spesso basta un semplice cambiamento per appagare il desiderio ciò non significa che per trovare un'idea basta sedersi ad aspettare non so minimamente che cosa la faccia arrivare se lo tieni vivo però il desiderio viene spesso confermato da un'idea e quando trovi un'idea sai di aver ricevuto una conferma la solidarietà più delicato di un fiore in gentilezza d'animo più forte del tuono nel difendere i propri principi definizione vedica dell'illuminato la meditazione non è una pratica egoistica anche se ti immergi per entrare in contatto con il sé non ti stai isolando dal mondo stai rafforzando te stesso in modo da poter essere più utile una volta tornato nel mondo assomiglia all'annuncio che si sente a bordo degli aerei prima indossate la vostra maschera poi aiutate chi è seduto ad accanto a indossare la propria il mio amico charlie liuz diceva c'è un uomo in lacrime sul ciglio della strada ti siedi accanto a lui per consolarlo e in un batter d'occhio gli uomini in lacrime sono due così la solidarietà la comprensione la capacità di aiutare gli altri vengono potenziati con la meditazione inizia immergerti e a venire in contatto con questo oceano di amore puro di pace pura potresti perfino dire di compassione pura lo provi e lo conosci diventando un tutt'uno con esso solo allora puoi uscire del mondo e fare davvero qualcosa per gli altri un'istruzione basata sulla coscienza una delle ragioni principali che mi spinsero a parlare in pubblico della meditazione trascendentale è il fatto di aver capito quanto possa essere d'aiuto ai bambini i bambini soffrono lo stress li colpisce a un'età sempre più bassa praticamente nello stesso istante in cui scendono dalla culla per non parlare di tutti i diversi disturbi dell'apprendimento di cui non avevo mai sentito parlare prima d'ora allo stesso tempo ho visto i risultati di un'istruzione basata sulla coscienza ossia un tipo di istruzione che sviluppa il pieno potenziale dell'uomo è la stessa istruzione che ricevono tutti con un piacevole extra gli studenti imparano immergersi in se stessi e a dischiudere il sé la pura coscienza il dottor george rootford dirigente scolastico di washington ha introdotto la meditazione trascendentale in tre scuole prima di allora erano invase dalla violenza sparatorie suicidi insomma violenza in generale ha convinto il personale gli insegnanti gli studenti a meditare e ha visto la situazione volgersi al meglio anche il dirigente scolastico carmen namdi di detroit ha introdotto la meditazione trascendentale nella propria scuola la nataki taliba circa nove anni fa i bambini meditano insieme dieci minuti al mattino e altri dieci al pomeriggio e la scuola è pervasa di beatitudine i bambini sono più felici prendono voti più alti sono estroversi e riscuotono successi di ogni genere funziona a scuola simili più conoscenze teoriche perché ti diverti allo stesso tempo però è espandi il contenitore della conoscenza basta metterla a confronto con gli esiti di un'istruzione ordinaria che è una stupidata bella e buona impari dati e cifre ma non conosci te stesso una sera assistetti a una recita che si teneva la maharishi school nello iowa una scuola secondaria superiore che applica l'istruzione basata sulla coscienza quella sera faceva freddo e pioveva e quando mi dissero che avrei assistito a una recita scolastica pensai accidenti sarà una serata interminabile sedevo nel bel mezzo di un piccolo teatro uno splendido teatro quando gli studenti entrarono in scena non erano attori professionisti erano semplicemente alcuni ragazzi che inscenavano una recita non mi è più capitato di rimanere tanto di stucco pensai che fosse migliore di uno spettacolo di broadway perché ciò che vedevo sui loro volti era coscienza una coscienza vivace brillante avevano una tale sagacia un tale ritmo le battute d'umorismo colpivano nel segno studenti simili non danno preoccupazioni sono autosufficienti se la caveranno benissimo nel mondo e lo renderanno migliore con la loro sola presenza la mia fondazione la david lynch foundation for consciousness based education and world peace è stata istituita per aiutare altri ragazzi ad avere questo tipo di esperienza abbiamo raccolto fondi e li abbiamo elargiti a diverse scuole in tutti gli stati uniti perché migliaia e migliaia di studenti possano imparare a meditare è stupefacente vedere i bambini che meditano e come se fossero impermeabili allo stress non li sfiora nemmeno voglio portare avanti questo progetto non solo nell'interesse degli studenti per la crescita della loro coscienza ma nell'interesse di noi tutti perché siamo come lampadine proprio come lampadine possiamo godere della luce più vivida della coscienza che dentro noi stessi e irradiarla penso che la ricetta della pace sia tutta qui se 10.000 nuovi studenti iniziassero a meditare questo fatto avrebbe ripercussioni sul nostro paese sarebbe simile a un'ondata di pace armonia coerenza vera pace a livello individuale la luce della coscienza scaccia la negatività sempre più lontano può fare lo stesso a livello mondiale la vera pace evita il pericolo prima che sia arrivato yoga sutra la gente è talmente convinta che la pace sia irraggiungibile da averla ormai resa una farsa una ragazza vince un concorso di bellezza è il colmo del ridicolo e che vuole la pace nel mondo tutti si fanno una grassa risata nella pace non ci crede nessuno è una bella idea tutto qui un'idea da illusi svuotata di ogni significato la pace non ci sarà mai viviamo in questo buco d'inferno e pensiamo che le cose debbano andare così e se invece ci sbagliassimo sappiamo che quando un essere umano eleva la coscienza la luce dell'unità a livello esponenziale le cose negative iniziano a ritirarsi in questo individuo l'intelligenza la creatività la beatitudine aumentano sempre di più la negatività si allontana e un'influenza positiva si riversa nel mondo quindi se ci fossero tante tantissime persone che meditano sarebbe meraviglioso anche se così non è alcuni gruppi ristretti di meditatori esperti potrebbero comunque essere di grande aiuto in teoria se la radice quadrata dell'1 per cento della popolazione mondiale oppure 8.000 persone praticasse in gruppo tecniche di meditazione avanzata secondo ricerche pubblicate su riviste scientifiche l'influenza di questo gruppo sarebbe elevata al quadrato rispetto a quella dello stesso numero di persone che meditassero sparse per il mondo i gruppi per la creazione della pace sono stati costituiti in occasione di studi a breve termine ogni volta che i meditatori più esperti si sono riuniti per meditare la loro azione ha prodotto effetti clamorosi sul territorio circostante riducendo il crimine e la violenza in modo quantificabile come hanno fatto? in ciascuno di noi c'è un campo di unità e lì da sempre sconfinato, infinito ed eterno è il livello della vita che non ha mai avuto una genesi esiste ed esisterà sempre può essere ravvivato nell'essere umano l'atto di ravvivare questo campo conduce all'illuminazione il pieno potenziale dell'individuo a livello globale lo stesso atto compiuto da un gruppo per la creazione della pace sfocerebbe nella vera pace mondiale titoli di coda vorrei concludere dicendo amo intensamente il cinema catturare le idee meditare amo ravvivare l'unità penso che questa azione contribuisca a migliorare sempre di più la nostra vita forse l'illuminazione è ancora lontana ma si dice che camminando verso la luce a ogni passo tutto diventa più luminoso per me ogni giorno diventa sempre più bello credo che l'atto di ravvivare l'unità a livello mondiale porterà la pace in terra per questo ti dico che la pace sia con te possa ogni uomo essere felice possa ogni uomo essere libero dalle malattie possa esserci ovunque fiducia nel futuro possa ogni uomo non conoscere mai la sofferenza pace e se sei arrivato sino a qui hai diritto a votare come premio fedeltà il prossimo libro da farmi leggere in versione no edit puoi scegliere fra Racconti dal Giappone un'antologia Paolo Villaggio Midiki o Roald Dahl un gioco da ragazzi e altre storie scrivi la tua preferenza nei commenti e noi ci vediamo al prossimo no edit